Assessore allo sport Palmino Palamara, un'intervista su questa bellissima serata di inaugurazione della piscina comunale in qualità di assessore allo sport. Io credo che i cittadini come l'amministrazione comunale deve essere molto soddisfatta perché abbiamo realizzato quello che era nel programma del elettorale. Oltre questa grandissima struttura dobbiamo dire che a livello sportivo abbiamo anche realizzato dopo tanti anni che non c'era più la polisportiva bovese, siamo riusciti a rifare la nuova squadra di calcio e l'anno scorso abbiamo anche vinto il campionato di terza categoria per cui credo che come amministrazione e come soddisfazione per i cittadini se ci lasciano un altro po' di tempo per poter lavorare riusciremo a realizzare tantissime cose. Lei si iscriverà in piscina, Assessore? Sicuramente per l'aspetto fisico mi devo per forza iscrivervi sia in piscina e fare anche un po' di sport a livello calcistico. Con la polisportiva bovese? Con la polisportiva bovese perché da ex calciatore mi piace ancora credere a quei bei momenti. Grazie Assessore. Grazie a lei, arrivederci.